Innocenzo III, prima parte Con la sconfitta e poi la morte di Federico I Barbarossa, la chiesa era uscita vincitrice dall'ennesimo scontro con l'impero. L'erede del Barbarossa, Enrico VI di Svevia, morì dopo pochi anni di regno, riuscendo peraltro ad insediarsi nel regno di Sicilia e a generare un'erede. Il futuro Federico II Dato che Federico era troppo giovane, si è acceso uno scontro tra suo zio Filippo, che era divenuto capo dei Ghibellini di Germania, e il duca di Sassonia, Ottone, capo dei Guelfi tedeschi. La minoretà di Federico e la lotta tra i due pretendenti al trono imperiale impedì all'impero di reagire alla ripresa della politica teocratica della chiesa. In questo scontro, infatti, si inserì il Papa Innocenzo III, deciso a sfruttare la situazione per rilanciare il programma teocratico, presentandosi non solo come capo della religione cattolica, ma anche come capo politico dell'Europa. Per sostenere la sua teoria, espressi in termini allegorici il rapporto tra pontefice e imperatore. Essi erano come il sole e la luna. Entrambi sono creati da Dio, ma il secondo riceve la luce dal primo. Ugualmente, il potere politico deriva e dipende da quello religioso. Il potere spirituale aveva il compito di vegliare sulle anime dei credenti, quello temporale di vigilare sui loro corpi. Il compito più importante era però il primo, che pertanto aveva la supremazia sul potere politico, quello temporale. Innocenzo si schierò accanto a Ottone, che divenne imperatore con il nome di Ottone IV di Sassonia. Il nuovo sovrano però non si dimostrò disposto ad ubbidire ciecamente al Papa. Anzi iniziò a rivendicare, oltre all'impero, anche il Regno di Sicilia. Questo avrebbe posto in pericolo l'indipendenza del papato. Minacciando Roma da nord e da sud. Come conseguenza, Innocenzo scomunicò Ottone, riconoscendo i diritti del giovane Federico, che stava crescendo a Palermo. Federico dovette però impegnarsi a non cercare di unire la Germania con il Regno di Sicilia. Lo scontro coinvolse l'intera Europa. Accanto al Papa si schierarono gli Svevi, con Federico, e la Francia guidata da Filippo II Augusto, un cappetingio. Contro il Papa si collocarono Ottone IV e l'Inghilterra, guidata da Giovanni Plantageneto, fratello di Riccardo Cuor di Leone. Lo scontro decisivo avvenne a Bovin nel 1214, dove i francesi, contro ogni pronostico, vinsero i più forti inglesi, ponendo fine alla guerra. Con la vittoria ebbe a termine il dominio normanno su parte della Francia. Federico di Svevia divenne imperatore, e Innocenzo III giunse al culmine del proprio potere. Innocenzo III scoprì che non era così facile governare, sia pure in forma indiretta l'Europa, e i sovrani fecero resistenza alla sua richiesta di bandire una nuova crociata, la Quarta, per inviare altri aiuti agli stati crociati della Terra Santa, pressati dagli arami. Quando alla fine la crociata partì, il numero dei cavalieri si rivelò inferior al previsto e non si riuscì a pagare i veneziani. che avevano allestito la frotta. Venezia, come pagamento, ottenne prima la conquista della città di Zara, e poi riuscì a deviare l'intera spedizione, che con grande sorpresa di tutta l'Europa si diresse verso Costantinopoli. La città fu assediata, conquistata e saccheggiata. Dopodiché l'impero bizantino venne spartito tra Venezia e i capi crociati. Per i greci e gli ortodossi in generale fu il segno definitivo della rottura con il mondo cattolico. Lo scisma del 1054 divenne così definitivo. L'impero latino, creato dai crociati a Costantinopoli, ebbe vita breve e pochi decenni dopo i greci riconquistarono la città, reinsediando una dinastia indigena bizantina. L'impero però era ormai esausto. Genovesi e veneziani si erano impadroniti del commercio, privando i bizantini delle risorse necessarie a resistere contro la minaccia turca, sempre più vicina. La crociata invece fu un successo per Venezia, che iniziava a competere vittoriosamente contro Genova. Questa era stata fino a quel momento la più ricca città marinara. La Repubblica di Venezia, guidata dal doge Enrico Dandolo, otteneva molte isole dell'Egeo, tra le quali Creta, una formidabile postazione militare e commerciale. Inoltre Venezia ottenne un intero quartiere della città di Costantinopoli. Inoltre Venezia, Grazie a tutti